Si chiude oggi il terzo turno di Coppa Italia che qualificherà le ultime 12 squadre al turno successivo che verrà disputato tra circa un mese, tra il 24 e il 25 novembre. In campo 12 partite, tra cui Parma-Pescara alle ore 18 allo stadio Egno Tardini. Per i biancazzurri di Massimo Oddo la possibilità di sperimentare qualche soluzione con giocatori che hanno trovato meno spazio nel difficile avvio di campionato. In porta per i biancazzurri dovrebbe esserci un'opportunità per uno dei tanti ex della gara, Fabrizio Alastra al posto di Fiorillo, difesa a quattro con Balzano e Enzità, Terzini e con il giovane Gutte e Bocchetti a formare la cerniera centrale. A centrocampo Valdifiori in regia con Busellato e Diambò Mezzali, mentre il tridente d'attacco sarà guidato dalla prima punta Belloni supportato da Capone e Riccardi, favorito questo su Galano. Sperimentale anche la formazione gialloblu, in porta chance per Simone Colombi. Assieme a lui a comporre la difesa, possibile maxi turnover con i primavera Balog e Radu, che potrebbero scendere in campo dall'inizio insieme a Gagliolo e Pezzella, o a Giacomo Ricci, escluso dalla lista Serie A ma arruolabile, convocato per la Coppa. Meno probabile la presenza dal primo minuto di Lautaro Valenti, che però potrebbe esordire nella ripresa. A centrocampo ci si aspetta l'esordio del primo minuto per tre nuovi acquisti, Ciprien, Somm e Hans Nicolussi-Caviglia, finora mai utilizzato. Rebus trequartista o 4x3 per Liverani, che potrebbe schierare Dezzi dietro alle punte, ovvero inglese adorante, che potrebbero essere la possibile coppia d'attacco. Pescara che non ha come obiettivo prioritario la competizione nazionale, ma che a Parma vuole cercare di dare nuovo slancio ad un avvio disastroso di campionato, con un pareggio e quattro sconfitte nelle prime cinque gare. Peraltro, il Delfino lunedì sera avrà un impegno complicatissimo, perché farà visita al neoretrocesso Lecce alla Via del Mare, nel posticipo della sesta giornata di Serie B.